Siamo giunti all'ottava e ultima corsa di questo convegno domenicale, è il premio Probing, un miglio per i tre anni che è stato selezionato come Corsa Tris straordinaria, sono 14 cavalli C'è un cambio di guida, il numero 4 di Sofì Del Ronco sarà interpretata da Alessandro Marucci in sostituzione di Alessandro Colasanti, andiamo a vedere il campo dei partenti con l'1 Shelford Run, Romolo Sani, il 2 Serafino Spin, Francesco Cincinnato, il 3 Sonny Francis, Gaetano Di Nardo, il 4 Sofì Del Ronco, Alessandro Marucci, il 5 Sexy Road, Paolo Pietropaoli, il 6 Scuptella, Sabato Di Vincenzo, il 7 Santiago B, Antonio Greppi, seconda fila per Sabrina DL, Francesco Pettinari, Shelly Brid, Mario Minopoli Jr., il 10 di Speed Model, che fa scuderia con Sofì Del Ronco, con Giampaolo Minucci, l'11 Smorfiosa Spin, Davide Di Stefano, il 12 Stripe e K, Dario Battistini, il 13 Salvador Trio, Marco Stefano, il 14 Sura delle Badie, Enrico Bellei. Allo stacco della macchina, emergono in lotta Sofì Del Ronco e Santiago B, che è partito forte all'esterno, poi lungo la corda si mantiene bene in quota Shelford Run, passa Santiago B, su Sofì Del Ronco, che gli cede il passo dopo il lancio in 13,6, terza posizione per Shelford Run, a precedere Scuptella, poi c'è un po' di bagarre fra gli altri, che comunque sono ora capeggiati da Serafino Spinneca in fuori, Sonny Francis, poi ancora Stripe e K, Shelly Brid, Sura delle Badie, Salvador Trio e gli altri. Con Santiago B, che cerca di metterla sul ritmo nelle mani di Antonio Greppi, e completa i primi 600 metri in 45,4, avanza però decisa Sura delle Badie, che aggira i cavalli all'esterno, punti in avanti, e all'apice della seconda curva, aggiunge al Salchi di Sofì Del Ronco, che segue sempre Santiago B, in terzo in corda c'è Shelford Run, davanti a Scuptella, poi ancora Sonny Francis, che sembra in difficoltà, allora muove in terza ruota, Stripe e K, seguito da Shelly Brid, Santiago B si mantiene in vantaggio, completa il primo giro, ora in 1,16,5, nei confronti di Sura delle Badie, che ha sempre all'interno Sofì Del Ronco, quindi Shelford Run, Scuptella, Stripe e K, Shelly Brid, prova a muovere in terza ruota Salvador Trio, siamo al paletto dei 1.200 metri, completati in 1,31,2 da Santiago B, che precede Sofì Del Ronco e Sura delle Badie, Shelford Run che si sposta dalla corda, Scuptella e tutti gli altri, mentre sbaglia Salvador Trio, Santiago B è ancora in evidenza, nei confronti di Sofì Del Ronco, che può spostare dalla sua scia, tagliando fuori Sura delle Badie, che ha all'interno Shelford Run, con Sofì Del Ronco che va all'attacco di Santiago B, lo impegna severamente, Santiago B alla corda, Sofì Del Ronco a largo, Santiago B si difende, vince, su Sofì Del Ronco con Sura delle Badie al terzo posto, 7, 4, 14, è l'arrivo naturalmente ufficioso di questa tris straordinaria, 2, 1,6 sul mio cronometro, 1,16 secco, la media al chilometro per Santiago B, da un capo all'altro con Antonio Grippi per i colori della scuderia Biasuzzi. Rivediamo il finale con Sofì Del Ronco che dopo aver concesso strada a Santiago B, si porta al suo attacco in retta d'arrivo, ma Santiago B si difende e vince, nei confronti di Sofì Del Ronco con Sura delle Badie, che ha provato ad inserirsi all'interno, ma deve accontentarsi della terza piazza, davanti a Scoptella e Shelly Breed, e dunque 7, 4, 14, l'arrivo ufficioso della ottava e ultima corsa, la tris straordinaria, è tutto per il convegno eterno, appuntamento a mercoledì prossimo 31 dicembre.